Ciotola Allegra, un tocco di colore in più alla tua tavola con linea Allegra. Per servire in tavola, conservare in frigorifero, dispensa e trasportare gli alimenti ovunque. Prima di continuare, iscriviti al canale. Per te è gratis e non ti costa niente e per me è molto importante. La ciotola ha un interno color rosso bordeaux e un esterno bianco. La superficie interna è traslucida per minimizzare i gratti e facilitarne la pulizia. È ideale per preparare insalate di quinoa, tofu, couscous oppure fresche macedonie. Il sigillo è idoneo per la conservazione in frigorifero e per il trasporto ed è ermetico e facile da apporre. Se il video ti è piaciuto, lascia un like e scrivilo nei commenti.